Ed eccoci all'ascensione del Signore in cui non festeggiamo l'arrivederci grazie di Gesù, ma il compimento della sua missione con la sua glorificazione in cielo. Ed è per questo che ritroviamo ancora una volta padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana, anzi buona domenica di ascensione. Buona domenica di ascensione a tutti quanti voi, carissima Anna Maria, amiche e amici che ci ascoltate. Oggi ritorniamo al Vangelo di Luca che è il Vangelo del ciclo C. E siamo nell'ultima parte del capitolo 24, ma la lettura che oggi celebriamo come prima lettura alla Libro degli Atti ci ricorda proprio il racconto dell'ascensione, perché Luca chiude il Vangelo con il racconto dell'ascensione, lo riapre negli Atti degli Apostoli sempre con l'ascensione. E' un mistero grande quello dell'ascensione, perché Gesù è il Kyurios. E ricordiamo che la parola Kyurios nel greco traduce quell'Adonai, quel tetagramma della parola che esprime il nome di Dio. E Gesù si mostra vivo in mezzo a lui. E il capitolo 24 che Luca ci dà alla fine del suo itinerario evangelico ha tre grandi scene. E' iniziato con le donne al sepolcro, le quali non sono credute. Gli apostoli e i maschi dicono che vaneggiano, e in realtà invece diventano le annunciatrici della Pasqua. Poi c'è stata la bellissima pagina che abbiamo già visto della scena di Emmaus, quando lungo la via il risorto apre ai due discepoli la mente sul centro delle scritture. Quel bel verbo che usa Luca, dianoico, che indica un attraversamento e poi una chiave ermeneutica che viene data. E' Gesù che ci apre sul senso delle scritture, come parlano di lui. E l'ultima scena è quella che oggi noi meditiamo nella celebrazione dell'ascensione. Perché Cleopa, questo fratello minore di Giuseppe, insieme all'altro discepolo, forse il figlio, sono subito tornati indietro per riferire l'accaduto agli undici. Il cuore ardeva mentre rifacevano la strada al contrario da Emmaus verso Gerusalemme. E quando arrivano ascoltano dei discepoli che a loro volta hanno avuto la manifestazione di Gesù Cristo. E' davvero risorto, anzi annunciano che è apparso a Simone. E mentre si scambiano a vicenda le rispettive esperienze pasquali, pensate come si sono risentiti rifiorire il cuore. Loro che avevano, come dire, questa pesantezza, come ha detto Luca, la pesantezza di cuore, stolti e pesanti di cuore, aveva detto Gesù a Cleopa e l'altro discepolo. E invece adesso sentono che la fede si è ravvivata, il loro cuore arde. E mentre si scambiano queste rispettive esperienze, Gesù viene stette in mezzo a loro, dice Luca, e augura la pace. Tutti sono sconvolti, atterriti, credono, dice Luca, di vedere un fantasma. Gesù però, dice loro, di non essere turbati. Cioè, non mettetevi sottosopra, non fate salire nel vostro cuore di nuovo i dubbi. E offre loro un segno importante. Mostra le mani e i piedi che sono stati trafitti durante la crocifissione. Dunque lui è il crocifisso risorto. Lui è davvero l'identità di Cristo, è la stessa. È proprio colui che ha dato la vita sulla croce a rivelarsi. Non solo, ma li invita a toccarlo. Che bella questa espressione. A entrare in contatto, anche fisico con lui, per constatare che lui è vivo. È presente in carne ed ossa. Un fantasma non ha carne ed ossa. Anche se è un corpo trasformato dalla resurrezione. Il suo corpo ora è stato vivificato dallo spirito. La resurrezione, chiediamolo sempre per i nostri amici e le nostre amiche, non è un evento umano del quale si poteva pensare nella realtà. In effetti la resurrezione di Gesù, e che è solo di Gesù, è una novità assoluta, completamente inaspettata. Mai c'era stata resurrezione, se non quella di Cristo. Colui che è stato trafitto è risorto. E i segni della passione ora, in quel corpo trasformato, diventano i segni della vittoria sulla morte e sul peccato dell'uomo. Colui che si è fatto carne, che ha voluto vivere a Nazareth oltre trent'anni nel silenzio, e che sulla croce ha dato la vita, è entrato nella morte per liberarla. E il Cristo risorto, col corpo trasformato, presenta ancora i segni della crocifissione. L'autentica novità è che il Cristo risorto è proprio il Gesù crocifisso. C'è una identità e c'è una completezza. Ed è molto forte l'affermazione che si fa. Sono proprio io. Gesù rivendica una continuità tra quel Gesù di Nazareth prima della Pasqua e il Signore risorto. Ecco perché poi, non avendo mangiato nella famosa ultima cena che noi abbiamo commentato, Gesù quando inaugura quella cena in Luca, non mangia. Fa mangiare i discepoli e fa bere loro. E aveva detto, io non mangerò e non berrò fino a quando arriva il regno di Dio. Quando arriva in Luca il regno di Dio? Con la Pasqua. Ecco perché adesso mangia con loro. A dimostrazione che egli è andato oltre la morte, ma la sua vita è pienamente umana. I discepoli però reagiscono un po' negativamente perché credono che sia tutta un'illusione. E l'impossibile di Dio continua a sorprendere gli uomini perché il dono di Dio, bisogna ribadirlo, supera ogni umana aspettativa. Chi poteva veramente pensarlo? Cosa manca alla gioia per essere piena? Il segno deve essere compreso alla luce delle scritture. Ecco come di solito si torna sempre a questo punto nodale. Le scritture sono il criterio interpretativo della Resurrezione. Sono le scritture che fanno prendere coscienza delle scritture. E così, per la seconda volta, dopo averlo fatto già con i discepoli di Emmaus, Cleo peraltro, Gesù apre la loro mente, interpreta le profezie, a partire da Mosè e dai profeti, e spiega che il Messia doveva proprio patire e morire. Ma il terzo giorno sarebbe stato risuscitato dal Padre. È tutto nel mistero della volontà del Padre. Anzi, poi affida ai discepoli la missione di testimoniare tutti questi eventi, a partire da Gerusalemme. Tutto il viaggio era terminato a Gerusalemme, qui si è consumato il mistero pasquale, ora da Gerusalemme hanno l'incarico di aspettare la promessa del Padre, e cioè la Pentecoste, e poi di iniziare la missione. Ecco perché gli ultimi versetti narrano proprio nel testo di oggi, ecco, il Vangelo di Luca si chiude narrando l'ascensione, con la quale, come dicevi tu, Anna Maria, Gesù non va via, non è che è assente, Gesù trasforma la sua presenza. È una presenza non più storica, non è più visibile, ma è una presenza, potremmo dire, sacramentale. Esaltato alla destra del Padre, Gesù ci dà lo Spirito, e nella forza dello Spirito, lui è sempre in mezzo alla comunità. Gesù è sempre presente nella comunità. E dopo aver ricevuto la benedizione, il fatto che i discepoli passano da quella paura, da quel timore, alla grande gioia. E qui Luca riprende questo termine, che abbiamo trovato nel Natale. Oggi vi annuncio una grande gioia, nella città di Davide è nato il Salvatore. Ebbene, la grande gioia della nascita, a questa grande gioia, corrisponde la grande gioia dell'ascensione. E quindi i discepoli possono tornare, e dice Luca, stavano nel Tempio. E quel Tempio ora non è più quello di Gerusalemme, ma è proprio il corpo risorto del Cristo. Nella sua umanità, che è il nostro Tempio, i discepoli possono benedire il Padre, perché sono stati chiamati a essere presenza di Dio con la loro vita. Ecco perché ogni domenica noi possiamo vivere la liturgia grazie all'umanità del Cristo, al suo corpo. È quello il vero Tempio. Lui è il figlio di Dio, il Salvatore, il Signore presente in mezzo a noi. E inizia così un nuovo modo di essere presente attraverso la sua Chiesa, soprattutto nei sacramenti. Grazie Padre Ernesto. Sì, perché quella presenza, vedi Anna Maria, molta gente dice ma non poteva continuare a farsi vedere da noi. Ma noi rispetto ai discepoli abbiamo una marcia in più. Loro lo hanno visto, ma Gesù risorto era fuori di loro. Noi non lo vediamo, ma Gesù risorto è dentro di noi. Non dimentichiamo il testo di Giovanni 14. Quando voi ascoltate la mia parola, io e Padre mio veniamo a voi e diboliamo dentro di voi. E quindi questa presenza nella fede è ancora più forte. Io credo che dovremmo davvero ritornare su questa realtà. È più forte la presenza di Gesù Cristo grazie all'opera dello Spirito Santo. E questo consola tantissimo. Grazie Padre Ernesto anche per oggi. Grazie a voi e buona ascensione. Grazie a tutti.